Ciao, ti do il benvenuto su Mindwork. Io sono Chiara Carlotta Leonetti, psicologa e ipnologa con esperienza sia in ambito clinico che organizzativo. Da anni mi occupo di sostenere le persone nei loro momenti di disagio emotivo e psicologico, cucendo ogni volta un intervento su misura, proprio perché ognuno di noi ha una sua storia, speciale ed irripetibile. Nel contesto organizzativo posso aiutarti a comunicare efficacemente, capire come trasformare le sfide in opportunità e raggiungere gli obiettivi. Grazie alla mia esperienza anche in ambito artistico posso guidarti a rispolverare la tua creatività, uno strumento importante per aprire nuove strade e risolvere i problemi in modo innovativo. Mindwork è una realtà stabile e affidabile che ti permette di collegarti da qualsiasi luogo senza compromettere in alcun modo la qualità del lavoro insieme. Credo che la vita sia caratterizzata da numerosi viaggi e può capitare di imbattersi in sentieri punteggiati da ostacoli all'apparenza insormontabili. Io sono qui per aiutarti ad attraversarli e a riscoprire le tue incredibili risorse che ti permetteranno non solo di raggiungere il nuovo equilibrio, ma anche di esprimere pienamente te stessa a te stesso e diventare così l'eroe della tua storia. La mia voce ti accompagnerà.